La sistemazione di contratti a Baccani, quindi via Pescatori, via Sarro, via Maffucci, via Vico e sia poi la sistemazione di Villa del Franco. Un lavoro di 3 milioni e 200 mila euro, l'impresa esecutrice di Cancello Arnone e fondamentalmente a contratti a Baccani dovranno essere rifatti tutti i marciapiedi pubblici e di uso pubblico e sistemare i tre giardini, un giardino che sta via Pia Sarro, l'altro giardino a via Maffucci e poi Villa del Franco. Rispetto agli altri interventi ci sarà un totale abbattimento delle barriere architettoniche perché oltre ai scivoli sui marciapiedi verranno realizzati sia dei percorsi tattili sui marciapiedi per i non vedenti, quindi dei tragitti che portano i non vedenti ai tre giardini che ho detto prima sia all'interno di Villa del Franco ci saranno delle mappe tattili per i non vedenti. Noi dovremmo cercare di organizzare le lavorazioni prossime alla perna nel periodo di chiusura della scuola quindi per evitare problematiche con la scuola e poi in fin dei conti per quanto riguarda i sottoservizi e quindi le strade ci saranno dei piccoli tratti di acquedotto da sostituire e un breve tratto di fognatura da via Sarro su via Pescatori. Poi per quanto riguarda le strade ci sarà solamente la sostituzione diciamo della pavimentazione biduminosa, quindi non ci sono lavori impattanti i lavori impattanti sono sui marciapiedi. Villa del Franco sarà totalmente riqualificata, in questo momento non c'è quasi nulla c'è un cancello e all'interno due panchine di cemento sarà un intervento all'avanguardia per quanto riguarda tutti i tipi di pavimentazione per quanto riguarda anche l'area giochi abbiamo messo in gara, nel progetto dei giochi abbastanza innovativi che non si sono mai visti in città quindi sarà un intervento abbastanza importante per quanto riguarda la Villa del Franco quindi con la pubblica illuminazione e tutto quella è un'area di contrada baccanico comunque è abbastanza vecchia come pavimentazioni, come marciapiedi e tutto quindi con questo intervento comunque in sette mesi riqualificheremo un'area cioè se andiamo a contrada baccanico vediamo che i marciapiedi sono di asfalto quindi alla fine ci sono questi due o tre giardini che comunque non sono messi maluccio quindi potrebbe essere un inizio almeno per il quartiere per poter iniziare a riviverlo pure di nuovo il quartiere che è sempre il quartiere e quindi potrebbe essere un'area di macchine per i miei amici 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 Grazie per la visione!